Dal palcoscenico al convento, una storia straordinaria quella di Fra Stefano Luca. Nato a Sonno 31 anni fa, dopo aver frequentato in città il liceo scientifico e l'istituto più XII, si è trasferito a Milano e lì ha coltivato la passione per il teatro. Poi un incontro gli ha cambiato la vita. Fra Stefano Luca lei ha avuto un percorso molto particolare. Era un attore? Eh sì, giusto. Attore di prosa, soprattutto nella zona di Milano, nel senso che ho studiato lì all'Accademia dei Filodrammatici e quindi mi sono diplomato lì. Quando ha sentito invece la chiamata, la vocazione? Allora, la vocazione nel mezzo dell'Accademia, nel senso che l'Accademia sono due anni, l'Accademia d'Arte Drammatica, e più o meno alla fine del primo anno ho incontrato i frati, prima cosa, e lì mi sono riavvicinato alla chiesa perché era un modo differente di relazionarsi, di esserci, e quindi grazie ai frati ho riscoperto anche la fede e poi piano piano, un cammino abbastanza lungo, mi sono arreso al buon Dio, come dico io. Perché hai scelto proprio il SAIO? Perché ho incontrato i frati, e questa è la cosa più banale, sembra, ma è così, e così la loro semplicità, la loro gioia e trasparenza, il modo di vivere seguendo San Francesco, ecco, attualizzato all'oggi, mi sembrava una via autentica, credibile. Un mese indimenticabile per fra Stefano Luca, il primo luglio l'ordinazione a Caravaggio, oggi ha concelebrato con Don Ferruccio Citerio nella cappella di San Francesco Saverio di Palazzo Sertoli, e domenica 9 luglio alle 10 la sua prima messa nella chiesa del Sacro Cuore di Sondrio. Adesso avremo la grazia il 9, quindi domenica, di fare questa prima messa qui a Sondrio, dove sono nato, con tanti amici e tante persone a cui sono legato, quindi sarà una gioia. Ora lo attendono due anni di impegno presso il Pontificio Istituto di Studi Arabi e Islamistica di Roma. L'Islam perché ci rendiamo conto, come frati francescani Cappuccini, che è veramente importante trovare vie nuove di relazione, di amicizia soprattutto. Allora, sai, si può trovare una via per stare insieme, anche discutere di cose teologiche, ma mediati da un'amicizia, da una relazione. Questo è quello che ha fatto San Francesco quando è andato dal sultano in Egitto, a tempo delle crociate, lui è andato, hanno pregato insieme. La passione per il teatro? La passione per il teatro diciamo che si è trasformata. Non faccio più teatro di prosa più classico, quindi non sono io che salgo su un palco, non faccio spettacoli per della gente che viene a vedere, ma utilizzo il teatro come strumento di presa di cura. Lavoro nell'ambito del teatro sociale, quindi lo uso come strumento riabilitativo per le persone che hanno bisogno.